Ciao a tutti i suff gunner in questo nuovo video come avrete letto dal titolo vi farò il custom del gc16 raider l dove trovate la video recensione nel precedente video se volete cliccate qua in alto qua e niente vi guardate la video recensione bene partiamo subito dicendo cosa metterò nelle parti che alziamo dall'avanti come vedete nello scorso video a me lo spegnefiamma si è rotto quindi ci metterò un bel silenziatore molto carino con questi frullini molto bello poi ci metterò un'impugnatura normale che si stringe da qua vabbè poi lo sapete anche voi poi la novità di questo si mi verrà eh si di questo custom è il lancia granate lm203 short vedete perché qua è più corto che volendo vi faccio la video recensione basta che me lo scriviate nei commenti e niente partiamo subito allora iniziamo a mettere il silenziatore ah togliamo il caricatore prima perché sennò c'è solo c'è solo fastidio iniziamo a mettere il silenziatore a mio parere molto figo c'era anche con fatto così con lo stemma dei nevisil però costava di più e visto che per adesso non c'è ancora una canna di precisione non ne va la pena magari in futuro 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 magari mi compro la canna di precisione e ci metterò un altro silenziatore ok vediamo che già è un po' più carino mettiamoci il pd e l'impugnatura ok la mettiamo più o meno qua adesso provo si aggiungiamo perfetto ora mettiamo il lancia granate qua io ci ho tolto l'attacco per la canna perché essendo la versione short blocca cosa di vita più compatto quindi ok qua blocchiamo stringiamo 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 ok 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 ragazzi ha preso una gran bella forma a mio parere e secondo me davvero figo perché vedete e si è pesantuccio perché pesa abbastanza però è comunque maneggevole guardate comunque maneggevole ci posso tenere da qua da qua volendo è maneggevole perché comunque il peso è giustamente un po' nella parte anteriore però magari se ci si mette un reddotto un mierino magari un acogo un neotec 552 magari non dico che proprio si stabilizzi però magari con un po' di peso in più poi vabbè ci mettiamo la batteria diciamo che bene o male è bilanciato ok ragazzi il video è finito se vi è piaciuto lasciate un like e se volete la video recensione del lancio granate ovvero l'M203 short scrivetemelo nei commenti il video è finito mettiamoci il caricatore il video è finito e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti